buon inizio settimana amici e bentrovati alla rassegna stampa di fanno tv oggi è lunedì 7 febbraio 2022 il sole sorge alle 7 e 18 e tramonterà oggi pomeriggio alle 17 e 26 vediamo subito qual è di chi è l'onomastico della giornata di oggi e vediamo dalla grafica che è di tutti coloro che si chiamano riccardo san riccardo re degli inglesi così festeggia il calendario liturgico di lui in realtà si sa poco si sa che partecipò ad un pellegrinaggio dal Vessex a Roma ma morì durante il viaggio a Lucca dopo aver visitato tanti santuari in Francia si sa di più dei suoi due figli anzi di suoi tre figli si tratta di Vunibaldo di Villibaldo e di Valpurga Vunibaldo fu un missionario sotto la direzione di Bonifacio e insieme alla sorella Valpurga resse il monastero di Aidenheim in Germania monastero fondato dal fratello Villibaldo insomma tre fratelli che si dedicarono ad una vita santa e piena di missioni ovvero di evangelizzazione che poi riccardo fosse veramente re non è accertato insomma è una di quelle figure un po pallide nel calendario ecclesiastico un po come San Gennaro è molto e molto venerato però insomma della sua di quello che ha fatto non so anche della sua esistenza è un po ci sono delle nubi e diamo ora un'occhiata alle nubi vere e proprie quelle che caratterizzano il tempo le le condizioni atmosferiche vediamo subito la piantina della nostra regione vediamo che ci sono nubi con un po di sole rapido fronte in transito di maltempo porterà piogge sparse in scivolamento da nord verso sud quindi un guasto del tempo che dovrebbe essere rapido venti in rotazione in riforzo da nord questa mattina insomma sulla costa aspira un vento piuttosto forte anche se in cielo un po sgombro da nubi le temperature sono in calo e varieranno dagli 11 gradi per quanto riguarda la massima ai 7 della minima non fa molto freddo comunque e diamo un'occhiata all'inizio della settimana alle notizie pubblicate dai giornali a partire dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano il caro prezzi blocca la caserma la caserma dei vigili del fuoco la ditta vuole una integrazione dei prezzi che erano stati fissati insomma prima che la crisi economica che sta investendo il nostro deitorio si accentuasse nuova sede dei vigili del fuoco il primo cittadino interviene sul ritardo dell'opera è tutto fatto in realtà per quanto riguarda la fase burocratica c'è il progetto ci sono i soldi è stato fatto il bando sono stati assegnati i lavori ma ora la ditta si tratta del consorzio stabile renova dell'aquila vorrebbe una integrazione dei prezzi perché nel frattempo il costo delle materie prime è salito alquanto insomma ora bisogna fare dei chiarimenti tra l'uffici delle comune e quelli del ministero il ministero è quello che ha finanziato questa opera che si rende sempre più necessaria nel nostro territorio per gli aumentanti impegni dei vigili del fuoco a causa delle variazioni meteorologiche insomma che causano incendi problemi all'assetto idrogeologico del territorio insomma come alluvioni allagamenti eccetera insomma occorre una struttura più funzionale e questa è stata identificata a chiaruccia ma lì i lavori devono ancora iniziare un articolo a fondo pagina riguarda un evento particolare ieri si sono festeggiati i 70 anni di gino bartolucci definito il sindaco di tre ponti una carica così nominale che è stata vallata dal sindaco massimo seri che ieri insieme ai suoi assessori il vice sindaco cristian fanesi e l'assessore al turismo etienne lucarelli ha partecipato alla festa in onore del compleanno di gino bartolucci lo stesso seri passa la fascia tricolore appunto a questa a questa a questo personaggio che in realtà ha fatto moltissimo sul fronte della solidarietà pensate che i regali che tutti gli amici gli hanno fatto lui li ha destinati sono dei valori economici lui li ha destinati alla mensa di san paterniano quindi non ha voluto nulla per sé ebbene però per gli altri il gino bartolucci ha fatto tantissimo vi ricordo che a tre ponti c'era solo campagna c'era solo qualche casa colonica ora c'è addirittura un villaggio una sede funzionale per incontri e feste manifestazioni un centro sportivo veramente molto frequentato dai giovani un'arena per gli spettacoli all'aperto insomma veramente tante tante poi le iniziative vi ricordo la collaborazione con l'amministrazione comunale per natale più in gir per fan che purtroppo per due anni è dovuto ha dovuto annullarsi a causa della pandemia insomma tante iniziative soprattutto tutte accumulate dal valore della solidarietà e passiamo ora al problema dell'aset che non manca mai nei giornali da qualche tempo studio segreto convocato il consiglio di amministrazione di aset una consulenza legale sul biodigestore l'iniziativa della commissione controllo per la temuta fuga di dati sull'avviso pubblico in carico a perfetti ci sono diverse notizie condensate in questo articolo insomma si parla soprattutto dello studio rimasto per oltre due anni segreto del gruppo era sull'aggregazione di aset in marche multiservizi uno studio che deve entrare in possesso degli organi istituzionali e soprattutto si deve fare chiarezza sull'eventuale fuga di informazioni riservate di aset alla base dello studio stesso il presidente della commissione consigliare di garanzia e controllo Luigi Scopelliti ha convocato un'altra seduta della commissione per cercare di fare chiarezza sulla questione per giovedì prossimo alle 18.30 in teleconferenza nel frattempo il comune ha affidato un incarico di consulenza al professore e avvocato Luca Perfetti che è un esperto di diritto amministrativo dello studio Bonelli di Milano con il quale il comune ha già dei rapporti insomma si tratta di verificare la procedura corretta per gli sviluppi dell'avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale per riciccare il partner per il digestore insomma quel partner che dovrebbe aiutare Aset Spa a sopportare il costo di questo impianto che è stato poi all'origine di tutte le polemiche che si stanno evidenziando in questi giorni passiamo alla Val Cesano vediamo cosa si dice di Mondavio ebbene qui si dice di un'iniziativa cicloturistica veramente importante bellezze da scoprire in bicicletta tre giorni tra colline e tesori si tratta dell'Adriatic Green Trail che si svolgerà dall'8 al 10 aprile si percorreranno 360 chilometri con base a Fano tutti in bicicletta alla scoperta delle bellezze della nostra provincia un tour affascinante di tre giorni tra mare e collina passando per borghi immersi in un paesaggio da favola insomma veramente scoprire il nostro territorio non in macchina perché in macchina si vede poco ma a piedi o in bicicletta è veramente un'esperienza molto molto bella l'iniziativa è in programma l'8, il 9 e il 10 aprile si tratta della prima edizione di Adriatic Green Trail organizzata da Fano Corre con il patrocinio della Regione Marche del Comune di Fano e di Confcommercio Marche Nord ancora sulla pagina del Corriere Adriatico siamo a Senigallia ebbene a Senigallia un altro episodio di cronaca Senigallia è una località dove gli episodi di cronaca non mancano se ne evidenziano spesso in questi giorni sui giornali in questo caso si tratta di un pestaggio la bottigliata in testa poi il pestaggio calcio sulle tempie mentre era a terra è stato il frutto di un'aggressione sciocche al foro annonario una quarantenne è andato all'ospedale caccia al branco di ragazzi ubriachi si tratta di una quarantenne dunque residente in città pestato dopo una lite al foro annonario ora ricoverato all'ospedale di Torrette di Ancona è accaduto sabato notte a ridosso del portico che conduce alla piazza dei Macelli dove era presente un gruppetto di ragazzi ubriachi tutto sarebbe partito da una discussione insomma la violenza di questi ragazzi è stata veramente eclatante l'uomo è stato appunto preso a bottigliate in testa poi una volta a terra con calci alle tempi insomma un'aggressione veramente violenta sembra un po' di rivivere un film degli anni passati veniamo ora alla pagina della regione Marche perché la regione Marche è entrata nella zona arancione da oggi Marche Arancioni poco male ma scoppia la bagarre politica poco male perché cambia poco in realtà cambia solo per chi non si è vaccinato il governatore Acquaroli dice che le restrizioni imposte dal governo costituiscono un accanimento ideologico ingiustificato e dannoso insomma Acquaroli si mostra contrario a queste imposizioni Mastro Vincenzo invece del Partito Democratico era ex presidente del Consiglio regionale ammettere dice i gravi errori commessi sarebbe un segno di maturità da parte della Giunta insomma anche qui c'è un dibattito ma noi diamo un'occhiata invece alla tabella per vedere cosa cambia con l'entrata in zona arancione della regione Marche cosa si può fare senza Green Pass? si può andare in altri comuni o alle regioni solo per comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità o motivi di salute ci sono anche dunque delle restrizioni per quanto riguarda i movimenti accedere ad alimentari, negozi, non nei centri commerciali farmacie e parafarmacie si distributori di carburante si, ottici si si può andare in strutture sanitarie, sociosanitarie, studi medici si può praticare un'attività sportiva o motoria all'aperto attività riabilitative e terapeutiche solo invece con il Super Green Pass si possono utilizzare i mezzi di trasporto andare nei negozi, nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi frequentare bar e ristoranti sia all'aperto che al chiuso alloggiare in alberghi e strutture ricettive accedere a palestre e piscine svolgere sport di squadra e di contatto andare a teatro, cinema, mostre, musei, stadi, palace, fiere, convegni e congressi partecipare a feste e cerimonie e frequentare centri benessere sale gioco, sale scommesse, sale bingo solo appunto con il Super Green Pass e qui vediamo invece a parte le iniziative di carattere preventivo per combattere la pandemia iniziative di carattere curativo appunto contro il virus si distribuisce il Paxlovid per sconfiggere il virus ora anche le nuove pillole una curva epidemica in calo nonostante che la regione marca invece peggiori per quanto riguarda la situazione in una settimana registrate 10.000 casi in meno ebbene la guerra del virus passa anche attraverso l'uso del Paxlovid il farmaco antivirale della Pfizer efficace nella cura della malattia da Covid da mercoledì potrà essere prescritto nella regione Marche le prime 156 confezioni sono già arrivate all'ospedale di Torrette quindi potranno essere poi pian piano distribuite in tutti gli ospedali della regione rincari bollette è l'altro tema che oltre a quello della sanità campeggia sui quotidiani da diversi giorni i rincari che mettono sempre più in difficoltà sia le imprese che le famiglie gli imprenditori puntano sulla riorganizzazione del lavoro per cercare appunto di diminuire di lenire gli effetti dei rincari si cerca di lavorare negli orari dove i costi dell'energia sono minori e abbiamo anche pagamenti che crescono in maniera esagerata per quanto riguarda le bollette proprio nel mese di gennaio a questa parte ci sono delle variazioni molto molto importanti per tutta la meccanica pesarese l'aumento dell'energia incide in alcuni casi anche più del triplo pensate per non parlare delle grosse difficoltà anche nel rifornimento delle materie prime ci sono realtà ha detto Luigino Gambini dell'omonima meccanica Gambini appunto ci sono realtà che per rispondere al peso dei rincari lavorano a turni nei festivi oltre che in alcune fasce orarie per esempio dalle 7 alle 9 del mattino quando l'energia costa di meno energia costi triplicati gas metano raddoppiato in questo caso è Andrea Baroni che è il direttore della Confindustria di Peser Urbino che evidenzia come la sofferenza è generalizzata in tutti i settori i picchi per le aziende energivore ovvero quelle che consumano molta molta energia elettrica e poi i giornali questa mattina evidenziano un lutto un lutto di un personaggio importante che ha inciso parecchio per quanto riguarda la vita sociale e culturale della nostra provincia è morto Marcello Di Bella fine intellettuale e grande pioniere la cultura in lutto e non solo nel nostro paese il vice sindaco di Pesaro Vimini caratura internazionale ha appunto detto per quanto riguarda quello che ha svolto questo uomo di cultura un uomo di profondo sapere aveva forti capacità operative la sua attività è stata dirompente è morto a 75 anni è stato il primo in Italia a ideare e a dare vita a contenitori culturali di grande successo lo storico Riccardo Paolo Guccioni che è il direttore appunto della Oliveriana ricorda i quattro anni in cui Di Bella lavorò alla biblioteca come un direttore che ha originato un fuoco di iniziative che a Pesaro non si era mai visto ha dichiarato appunto Uguccioni e poi passiamo alla cronaca vediamo qui una azione delle forze dell'ordine i carabinieri hanno sequestrato circa 50 grammi di stupefacente nascosto vicino al monumento ai caduti trovato Ascis già diviso in dose un nascondiglio della droga nel triangolo dello spaccio sono stati giorni di controlli a tappeto da parte dei carabinieri al parco Miralfiore alla stazione ferroviaria e nell'area verde del parco della Resistenza sappiamo che questi sono i luoghi molto molto frequentati dai tossicodipendenti e quindi dagli spacciatori spacciatori però che nel corso di questa azione non sono stati individuati sono stati trovati soltanto trovate soltanto le dosi pronte per lo spaccio farmaci per chi è in difficoltà gli esercizi coinvolti sono 44 unità inizia da domani la giornata per la raccolta del farmaco un'iniziativa importante perché molte persone hanno nelle loro cassette farmaceutiche farmaci che non si usano più ma che sono ancora buoni validi per quanto riguarda la scadenza un'iniziativa questa della raccolta che si concluderà lunedì prossimo anche nella nostra provincia dunque sono coinvolti i volontari del banco farmaceutico che saranno presenti nelle giornate di sabato prossimo 12 febbraio a 44 esercizi aderenti i medicinali raccolti sosterranno 25 realtà del territorio impegnate a prendersi cura delle persone in difficoltà sono difficoltà soprattutto per quanto riguarda i farmaci da banco quelli che si pagano non quelli che magari passa il servizio sanitario nazionale dunque è un'iniziativa importante se avete qualcosa che non vi serve portatelo appunto in farmacia dove ci sono i volontari che lo destineranno a persone bisognose tanti minori presi per mano da noi imparano a crescere si tratta della comunità educativa Perseo che opera ad Aqualagna tra Urbagna Aqualagna e Ferminiano da 2014 qui si trova la comunità educativa residenziale per minori che raccoglie ragazzi stranieri ma anche molti giovanissimi italiani che provengono dal centro nord Lombardia Veneto Toscana che sono inviati in questo centro su disposizioni dei tribunali perché in situazioni di disagio sociale nel proprio contesto familiare insomma un contesto familiare dove questi ragazzi non possono vivere in maniera adeguata sia appunto dal punto di vista economico ma anche soprattutto dal modo di vivere educativo etico ebbene in questo caso possono riacquistare una loro individualità vengono fatti infatti a ciascuno progetti individuali che riguardano lo studio lo sport attività ludiche per la socializzazione tutto quello che riguarda l'inserimento nella società compreso e questo è importante il mondo del lavoro ed ora diamo un'occhiata al resto del Carlino dove si parte da Pesaro e vediamo che si parla di una ditta di un capannone che è in forte degrado ed è stato anche oggetto di atti vandalici nei giorni scorsi si tratta del mobilificio Nava c'è anche qui un pericolo di amianto se bruciano quello il problema si aggrava dopo l'ennesimo episodio doloso dei giorni scorsi il consigliere di Dario del Partito Democratico oggi chiederà una riunione al Comune per affrontare il caso il problema dunque c'è il problema è costituito soprattutto dall'amianto ci sono alcuni punti dell'ex mobilificio Nava Villa Fastigi situato in Via Pompiglio Fastigi che ancora nonostante una bonifica fatta l'anno scorso contengono amianto e questo è il fattore che può diventare un problema di ordine pubblico soprattutto perché l'edificio è oggetto di incursioni di vandali piromani che avvengono nei locali abbandonati dell'ex mobilificio il cui destino adesso è nelle mani di un commissario giudiziario insomma occorre tutelare questo edificio o abbatterlo o risanarlo completamente e per quanto riguarda il turismo si avvertono segnali di risveglio riapre l'hotel Vienna e al mare è anche il parcheggio sotterraneo uno allo studio l'albergo di piazzale d'annunzio farà ricrescere circa 30 camere parte delle quali saranno destinate a diventare cond hotel ovvero una situazione mista tra appartamenti e camere d'hotel Viale Trieste sul lato Levante Pesaro parcheggi calcola una spesa di 2 milioni e 300 mila euro per realizzare circa 80 posti auto previsti due strutture importanti per quanto riguarda il turismo ovvero un nuovo hotel che riapre e quindi questo è un segno di speranza e poi invece un parcheggio un nuovo parcheggio che potrà ospitare 80 posti auto sono strutture importanti queste perché ovviamente una città dotata di posti camera e di parcheggi è una città appetibile dal punto di vista turistico anche il resto del Carlino commemora il professore Marcello Di Bella una vita spesa per rinnovare la cultura dice il titolo fu lui ad inventare il sipario ducale nella nostra provincia il maest festa cattolica in città diresse la biblioteca oliveriana e per quanto riguarda la sanità abbiamo un appello di Elisabetta Esposto che è il direttore del distretto di Pesaro che spinge per immunizzare più soggetti possibili soprattutto i ragazzi sulla fascia di età tra i 5 e gli 11 anni è il momento buono per i vaccini ha dichiarato sono tra i più colpiti questi ragazzi reazioni avverse una su centinaia ed era soltanto febbre e stanchezza appunto messo in evidenza Elisabetta Esposto poi il giornale evidenzia la situazione il bollettino appunto dei contagi curva dei contagi in calo ma aumentano i ricoverati sono 2.519 i positivi al covid rilevati ieri nelle Marche con il tasso di incidenza che continua a scendere e arriva a 1.763 virgola 08 su 100.000 abitanti e sono 9.525 i tamponi complessivamente analizzati dei quali 7.352 nel percorso diagnostico con una positività del 34,3% insomma un trend che va verso il miglioramento Aset è un presidio dell'autonomia fanese una dichiarazione da parte del consigliere regionale Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle che osserva come mire espansionistiche nel nostro territorio da parte di ERA stanno provocando ingerenze politiche da Pesaro su Fano l'unico modo è l'affidamento diretto del servizio idrico e dei rifiuti insomma cercare di svicolare all'imperativo della gara cercare di fare un affidamento diretto ma vedremo se questo sarà possibile e poi la notizia delle notizie la notizia di sport è quella dell'abbandono del presidente del Fano Calcio dopo l'ennesima provocazione che è stata fatta nei suoi confronti Terrone Battene attacco al patron del Fano lui mi arrendo e vi consegno la squadra scritte offensive e minacciose fatte con lo spray all'ingresso degli spogliatoi del Mancini contro Mario Alessandro Russo i gruppi organizzati dei tifosi però si dissociano solidarietà da parte del sindaco Massimo Seri il presidente si sfoga ho capito che questo non è il mio posto non mi volete e quindi io ritorno nella mia terra sembra che siano stati due tifosi isolati a fare questa ennesima provocazione hanno tracciato scritte sulla terra sul terreno della strada vicino al Mancini e poi anche sulle mura sul cancello appunto che circonda lo stadio qui vediamo Mario Alessandro Russo che dice a questo punto io me ne vado e voi cercatevi un altro presidente vediamo quindi lo sport lo sport della domenica passando prima per la visse e poi tornando al Fano visse solita storia è stata una partita sfortunata quella di ieri contro la viterbese perta persa per 0 a 2 visse solita storia cade quando c'è da volare primo tempo senza tiri in porta la viterbese passa meritatamente accenno di reazioni nella ripresa ma poi arriva il colpo del KO e il commento di Banchini e Amaro qualcuno è un po' spremuto ha dichiarato il tecnico non nasconde il momento di difficoltà ma difende il gruppo stiamo facendo un campionato stratosferico ha detto insomma i risultati dovrebbero poi essere così dovrebbero essere pari a quello che insomma si prospetta vediamo anche la pagina che riguarda il la VL il basket VL 93 Vanoli 87 la VL respira ultimo posto si allontana però voglio farvi vedere anche il fano calcio il fano calcio dopo che anche il corriere adriatico parla del capitombolo della vis contro la viterbese vediamo che il fano calcio è oggetto appunto di una defiance da parte del presidente caro Fano io me ne vado dopo le scritte offensive apparse ieri il presidente annuncia il suo disimpegno e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e questa sera le notizie del giorno su occhio alla notizia di Fano TV condotta da Simona Zonghetti alle ore 20 e 30 buona giornata